come c'è scritto nella descrizione, nella descrizione che vi ho messo in anteprima 19 euro, panini, 4 panini, latte bambini, per i bambini, latte noi che viene 1,80 quasi 2 euro latte aumentato pure tra l'altro, 2 birre, zucchero, caffè, 150 grammi di prosciutto crudo e cotto a vicino a testa, che sono 3 euro, 4 su 4 5 euro di prosciutto diciamo, zucchero, caffè, patatine venuto 19 euro e qualcosa, non si può più fare la spesa ragazzi, ed ho cambiato supermercato ho cambiato i market, vorrei andare nei grandi supermercati che fanno i sconti, ma io una macchina non ce l'ho per andarci, quindi fanno bene per le persone che vanno ai grandi magazzini, ai grandi supermercati a fare spese e non favoriscono i piccoli botteghi, le piccole botteghe, i piccoli mini market se ne abusano, se ne abusano, quindi ho preso solo anche 2 birre tra l'altro oggi, per mantenere in più leggero tra l'altro, risultato 19 euro, mai si è preso qualcosa in più, ho detto vabbè stai preso qualcosa in più, magari è venuto qualcosa in più, no, questa poca roba che ho detto, questa poca roba che ho detto, ho preso, è assurdo, fanno bene chi ruba nei negozi, nei supermercati, fanno bene chi imbroglia, chi dei soldi farsi, fanno troppo bene, perché sinceramente ne abusano, se ne abusano, c'è l'inflazione, quello che l'altro per mantenere i prezzi, quando vogliono i commercianti, queste sono le conseguenze, che noi poveri cittadini con i nostri stipendi da fame, le nostre stipensioni da fame, dobbiamo fare la spesa, non ci arriviamo neanche a fare, ma adesso queste sono ben le prime necessità, non è che vai a mangiare una pizza fuori io posso anche rinunciare alla pizza al sabato sera, il cocktail, il drink al sabato sera che non sono ben le prime necessità, queste sono ben le prime necessità, che ho il latte il pane, che costa pareggio, come sembra 4 panini di 1 euro, prima erano 6 panini di 1 euro 6-7 panini, qualche anno, qualche tempo fa, dove cazzo arriveremo, dove arriveremo? non si sa ragazzi, ma è molto dura, è molto dura non si sa ragazzi, un'altra